Cari amici, sostenitori, sostentatori, sostentatrici, sostenitrici, un saluto ai miei capatti che spesso vi segue, vi ricordate il film Matrix? Io questi qui li ho visti su Wish, che qui c'è il coso che stringe, no? Stringe nel naso, ma non stringe eccessivamente perché poi ho veramente calibrato bene. Qui ci sono le due linguette, adesso cerco di farvele vedere, queste qua, che vedete? E stanno su un naso, ma guarda che sono comodissimi e hanno la forma di quello che rappresentava su, non mi ricordo neanche il film, comunque, è un consiglio, costano una cazzata, 6 euro, 8 euro, mi ricordo, mi sono piaciuti, un consiglio ai miei amici, come sempre. Ciao, buona giornata a tutti, ciao.